Oggi parleremo di Yaijutsu e precisamente parleremo di Yaijutsu Meighetsu Meighetsu è un kata il cui nome identifica la luna piena del racconto Spiegheremo la sesta tecnica di questo kata Rokuban Renfokudosa di Meighetsu La prima cosa, la postura iniziale che è una postura di attesa con le gambe leggermente flesse e il busto leggermente in avanti Da questa posizione, presupponendo un attaccante alle nostre spalle eseguiremo un Ichimon Jinuki per poi fare un Shiro Tsuki girarsi in un sottè caricare la spalla e nel momento in cui carichiamo la spalla caricare anche le nostre anche per poter attivare gli Aigoshi Gli Aigoshi è appunto un colpo nel quale da fermi sono proprio le anche che ci danno l'energia per poter fare esplodere il corpo Ichimon Jinuki Ushiro Tsuki Sokute Yaigoshi Maetsuburi Nokoku 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 Ora saliamo vedere sempre questo kata con l'aiuto di un ucchi. Senpai Lino. Senpai Lino interpreterà la parte della nostra attaccante alle nostre spalle. Presupponendo di sentire la presenza di un attaccante alle nostre spalle ci prepariamo e saliamo in questo momento Buket avrà caricato in Jodan Makamae. Con Shiro Tzuki bloccheremo la sua posizione. Gireremo il sotte e lui per andare a parare il suo attacco. da qua chiuderemo con il nostro gli anglosci. Allora e lui andiamo a chiuderemo. Allora Grazie. Grazie.